Assessore Viale, le novità importanti per l'unità spinale e per l'ospedale Santa Corona di Pietraligure in questa giornata, in questa vista, appunto l'unità spinale unipolare assieme al Presidente Totti? Sì, un punto fermo sugli investimenti che abbiamo fatto fin qui, nuove sale operatorie, l'acquisto di importanti apparecchiature che danno il senso di un'innovazione tecnologica che va nella giusta direzione e anche in prospettiva investimenti nell'edilizia sanitaria importanti proprio per ristrutturare alcune parti del Santa Corona. È di tutta evidenza la struttura è risalente negli anni ma dal piano sociosanitario che mantiene il DEA di secondo livello qui al Santa Corona siamo andati nella direzione di rafforzare sempre più questo luogo che siamo qui dietro addirittura i vent'anni dell'unità spinale deve rimanere un punto di riferimento anche nazionale. Sanità che è uno dei punti fermi sulla quale la regione punta molto? La sanità è un punto sensibile, insomma sono gioie e dolori perché è chiaro che in qualche modo noi abbiamo a che fare quotidianamente col dolore, con la sofferenza delle persone e ce ne facciamo carico tentando nel nostro meglio, col massimo impegno attraverso i modelli organizzativi, gli strumenti normativi che ci sono di offrire qualità di cura. Noi abbiamo personale all'altezza di queste sfide, sia medico che delle professioni sanitarie, abbiamo però delle strutture ospedaliere datate nel tempo e quindi dobbiamo sicuramente trovare il giusto equilibrio.